Il Pescara ha in pugno l'esterno d'attacco Riccardo Sottil, figlio d'arte, il papà Andrea allena il Catania ed in Serie A è stato difensore tra le altre squadre di Udinese, Atalanta e Catania. Sottil, classe 99, è cresciuto prima nelle giovanili del Torino per poi passare alla Fiorentina. Proprio coi Viola ha debuttato in Serie A lo scorso settembre nel recupero contro la Sampdoria, due le presenze nella massima serie per un totale di 18 minuti. Sottil è pronto a trasferirsi in prestito secco al Pescara fino al prossimo giugno, predilige la corsia sinistra, un arrivo che mette dunque in discussione la permanenza a Pescara di Cristian Capone. Non si esclude che nelle prossime ore il giocatore possa tornare all'Atalanta, dopo gli oltre tre mesi di assenza per infortunio, il Delfino ha bisogno di un giocatore più pronto fisicamente. Domenica scorsa ad esempio, a seguito del forfè di Antonucci, è stato schierato Macin nel ruolo e l'esperimento non è andato bene. A proposito di Macin, sul fronte trattativa al momento c'è una fase di stallo e l'accelerazione del Genoa non c'è stata. Il club di Preziosi è stato impegnato nelle trattative Piontec, Sturaro, Sarabria e altre, ma lo scenario può cambiare da un momento all'altro, visto che il mercato chiuderà i battenti giovedì prossimo. Ieri abbiamo parlato di Gaetano Monachello, circa la sua uscita bloccata dalla società perché manca l'entrata sul fronte centravanti. Sta sfumando anche un altro nome accostato ai Biancazzurri. Dopo Marco Tuminello, destinato a Lecce, Marcello Trotta del Sassuolo è pronto ad accasarsi al Frosinone in Serie A. Un altro giocatore di De Zerbi, Scamacca, potrebbe restare in Emilia dopo la partenza di Boateng. Per ora Monachello non si muove, benché il centravanti siciliano abbia diverse proposte, in particolare quelle di Livorno e Padova. Non sorprende neanche che nelle ultime ore si torni a parlare della cessione di Edgar Elisalde alla Juventus. Il fatto che si alleni in prova lo svincolato Liviero dimostra che il Pescara vuole una alternativa di ruolo a Del Grosso. Intanto i Biancazzurri continuano a preparare il match di domenica prossima in casa del Livorno. Problemi a centrocampo. Brugman è squalificato, mentre Memushai ha saltato le prime sedute settimanali, svolgendo solo terapie. Con Canutè pronto a prendere la regia della squadra, Melegoni e Macin potrebbero essere le mezze ali in caso di forfè del centrocampista albanese. Per il match dell'Ardenza il Livorno avrà a disposizione il nuovo innesto, l'esterno polacco Tomasz Kupisz prelevato dall'Ascoli in prestito con diritto di riscatto.